Schadenfreude Schadenfreude si chiama in tedesco quel concetto penoso e grottesco in base al quale si prova gioia quando la sventura altrui annoia. Sì, penoso e grottesco davvero, eppur di fatto non ma è straniero, non certo innocente nemmen puro, ma diabolico no, Arturo. In fondo si può giustificare il buon umor che sa suscitare chi ci conquassa con una pacca per passare, ma pesta una cacca. Del resto gioisco di danni irrisori, mai drammi o grandi dolori.